Ciò che interessa agli utenti, prendo Iron Bart, sarà qui per il servizio, per cui sono apprezzato i primi risultati positivi che ci stanno avendo per settimane, la spesa che si possa proseguire a tenerne tanti altri e tanti altri, nel rispetto dell'autonomia aziendale, delle competenze, delle produttive che si facciano chiaramente all'azienda, per esempio i contrattuali e magari anche nei prossimi mesi di modifica dei contratti per l'Italia e per queste clausole vengano utilizzate in maniera impropria. Io spero e credo che comunque l'obiettivo comune sia quello di pretendere chiarezza e qualora certamente gli scontrati la necessaria severità perché vanno uniti l'interesse dei nomali. Grazie.